Mostre, conferenze e seminari presentato oggi da Larioin il calendario per il primo semestre del 2022. Ricco il programma di eventi proposto dall'associazione no profit fondata nel 2012 che si terranno non solo nella sede di Banca Generali promotrice della rassegna in lungo Lario Trento ma anche a Villa del Grumello e a Villa Erba Cernobbio. Siamo contenti di collaborare con persone di alto profilo culturale del territorio e quindi lo scopo di Larioin è proprio quello di sponsorizzare e far crescere e creare soprattutto una rete dove tutti insieme possono lavorare per promuovere questa nostra bella città. Torna al premio letterario scritture di lago alla sua terza edizione con la novità di un premio riservato ai giovani. Già in corso la prima mostra allestita nella sede della Banca Leoni e altri umani di Samuele Arcangeli si concluderà il 6 febbraio, negli stessi spazi dal 12 febbraio al 12 aprile verrà allestita in coro con opere dell'artista comasco Giuliano Collina dalla collezione di Milipozziarte. Io nel 2003 ho fatto dieci acqueforti, di grande formato, anche piuttosto grande, a colori, sul tema del Carmina Burana. Ha fatto queste acqueforti, credo che le rivedrò, perché non è da tanto tempo che non le vedo, le rivedrò in questa mostra, verrò a trovarle e vedrò se si sono comportate bene nei confronti miei e vostri.